Gioio Lasso, cos'è? Tanti anni di trasmissione, ma fate ogni anno a sconti regole? E' una trasmissione che quest'anno è tornata, come mi è cospeso, alla nostra più parte, Radio Radio, e con questo nuovo format che stiamo realizzando, la prima volta che non ha dettagli, la prima volta che non ha avuto la vita, la prima volta che non ha avuto la forma, non abbiamo avuto la forma, non abbiamo avuto l'attutto di trasmissione. Quando a Comentiglio si occupa di interviste esclusive per quanto riguarda la trasmissione, in questo format di quest'anno Giulio ha voluto dare seguito a queste interviste particolari che di volta in volta vengono dei protagonisti della strada e delle istituzioni, come dei magistrati, degli agenti, dei prefetti, dei giudici e tanti avvocati che ovviamente essendo dall'altra parte hanno avuto modo di confrontarsi, stanno a benissime esperienze e ringrazio tutti questi. Carolina, la vostra voce femminile? Sì, Fabrizio, allora la nostra trasmissione Inconfondite le voce di Carolina. Anche perché abbiamo la stessa rimoscia, quindi facciamo una doccia che si può andare dal punto di vista. Per chi non lo sapesse la trasmissione Docchia per la 21 racconta la vita degli agenti, la vita professionale degli agenti e soprattutto la particolarità, sono gli frequenti più impensati che riguardano la vita di un poliziotto, quindi non soltanto le rapine sparatorie, ma anche il soccorso pubblico, il sostegno alle anziani e tutto ciò che riguarda comunque anche persone con dei problemi, quindi per chi non lo sapesse la vita degli agenti della polizia consiste anche in questo. Marlo che quest'anno abbiamo un marco di carità nella zona della sanzione termica. E' stato ovviamente raccontato la stagione termica, ma non solo pilometri, cerchiamo anche di raccontare un po' quelle vita degli individui, quindi con la consuetta umanità che ha impiantato i 5 e 5 anni questa nostra trasmissione, perché come dico sempre il documento 21 ci mette a cuore, altrimenti sarebbe solo una semplice trasmissione radio. Giulio, quanti anni sono? Sono 15 anni. 15 anni.